Un cittadino di Agropoli è noto perché ruba limoni e arance nei giardini di abitazioni private per poi rivendere il tutto lungo le strade della città. Conosciuto dagli agropolesi anche per la sua insistente richiesta e continua ricerca di monete e sigarette, il signore in questione è un tossico dipendente della zona che non si limita solo a questo ma al contrario sono sempre più numerose le segnalazioni di furti di maggiore valore, da cellulari alle biciclette, ai televisori e per fare ciò si introduce nei garage e nei palazzi dei cittadini. La situazione sta degenerando a causa anche delle persone che comprano ciò che vende perché il soggetto in questione lo fa per pochi euro. L'emittente televisiva Cilento Channel ha segnalato e denunciato più volte la gravità della situazione e ha sempre cercato di sensibilizzare la comunità a denunciare il disagio e non si fermerà fin quando non si troverà una soluzione. Sui social girano video di lui mentre ruba i limoni ma allo stesso tempo nessuno si fa avanti e lo denuncia. Numerosi anche i post pubblicati da parte di chi viene derubato ma le accuse purtroppo restano prive di prove. Senza la collaborazione di tutti i cittadini e in particolar modo di coloro che assistono al furto, le forze dell'ordine non possono compiere il loro dovere e di conseguenza non si riesce a migliorare una situazione che crea disagio, fastidio e paura. Un esempio simile nella giornata di ieri è capitato ad una cittadina del posto, lo sfogo della cittadina sul suo profilo facebook e questo. Chiedo a tutti i miei contatti di aiutarmi, lancia l'allarme Teresa, un noto ragazzo agropolese che solitamente ruba limoni ed arance per venderle per una dose di droga purtroppo, si è introdotto nel mio garage forzando la serratura, rubando una bicicletta lombardo nera ed un televisore samsung 32 pollici. Ho fatto regolare denuncia ai carabinieri quindi chiunque avesse acquistato la bici o il televisore mi contatti in privato onde evitare una denuncia con multa per ricettazione, considerando che la bici ha anche un numero di telaio, quindi non si scappa. Il crimine non è solo di chi lo compie ma anche di chi a seconda, sottolinea Teresa. Si invitano i cittadini a non comprare oggetti rubati come giusto che sia e di denunciare ai carabinieri soprattutto quando il tossico dipendente viene colto sul fatto. Solo in questo modo si può aiutare chi viene derubato e chi ruba per comprare probabilmente ciò che lo ha reso purtroppo tale. Bisogna mettere fini a questa incresciosa e pericolosa situazione.